buongiorno ragazze e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo vlog ovvero della nostra tipica domenica sì perché oggi a mezzogiorno e 44 vabbè stiamo uscendo sì orario di cavalieri proprio c'è wow e allora ora ci facciamo una passeggiata un po dappertutto e così via però prima di partire mettiamoci la cintura ci riuscirò un giorno si un giorno ci riuscirò oddio guardate il mio modo di mettere la cintura con un solo mano troppo bella non la riesco a mettere con la sua mano chi mi aiuta grazie babbo dammi 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 ah e io con una sola mano non ci riesco l'hai messa anche tu babbo devo chiudere il cancello io ah ok sì ora babbo chiude il cancello perché dobbiamo uscire ma insomma vengono le ladre tipo no sto giocando vabbè comunque devi chiudere il cancello e poi dopo andiamo partiamo ti deve mettere prima la cintura ovviamente giulia tu no si che c'è si che c'è perché dobbiamo prendere una cosa molto figa si che dovete comprare una cosa molto figa avete portato i soldini no no grave il telecomando che non apre per cambiare vediamo un po vediamo un po wow il telecomando che non ci apre ce l'abbiamo fatta via vabbè allora noi ci vediamo dopo bye bye ciao ok ragazzi ora vi faccio anche vedere la mia amata scuola che ci ha fatto asilo elementari ora anche medie e anche la mia io sto all'elementari aspettate che ve la faccio vedere un attimo guardatela con la signorina davanti si vede la si guardate proprio bello va bene dai babbo tutto bene il parcheggio della scuola nel pomeriggio vengo a prendere il parcheggio sempre lì nell'angolo lì bravo babbo la mattina allora ragazzi voi dovete sapere voi dovete sapere che io alle elementari asilo mi faceva accompagnata mia mamma quindi sono sempre nella macchina di mia mamma ormai infatti la macchina di mio padre la vedeva il sabato della domenica perché alla fine c'è lui tornava la sera e torna la sera a casa e quindi io la vedevo solo il sabato della domenica ci stavo dentro ora ci sono tutte le mattine tutte tutte quante perché lui deve andare a lavoro e quindi io devo io vado con lui che faccio più presto e Giulia invece ci mette tanto è vero ci sei una lumaca io sei una lumacona ragione ci sei lentissima non è vero è normale perché mi devo controllare babbo ora c'è traffico ora c'è traffico siamo ancora dove allora quindi andiamo dai cinesi dai cinesi poi poi a medì che dobbiamo comprare che devi comprare il non lo possiamo dire il popsocket sì sì ragazzi io già ne ho uno però ne voglio altri due oggi niente coca sì esatto la coca dobbiamo andare a prendere il pane ce l'abbiamo no sei durito ha detto mamma ah il pane vabbè dobbiamo fare varie commissioni strambe e molto belle quindi ci vediamo dopo bye bye ragazzi allora stiamo arrivando da un cinese che non ci vediamo spesso però ovvio i miei genitori sono andati da altre volte e mi hanno detto che hanno trovato una cosa troppo più figa ovvero le pantofole ad emoji quindi ora me le vado a comprare assolutamente quindi ora ci entriamo babbo non metti gli occhi addosso che ti picchio stiamo entrando guardate un po c'è anche il parcheggiatore esatto guardate ci fa segno a destra va bene andiamo wow oddio ora entriamo assolutamente ovvio leviamola così e siamo a postino andiamo ok saliamo vediamo un attimo saliamo subito adesso mettiamo un sacco di vergogna mettiamo allora andiamo andiamo oh le parrucchie rosa azzurre dove? wow come sono i figli come sono i figli sono belle guarda guarda io me le prendo cosa belle allora vediamo un attimo no queste sono quelle la aperte aspettate ora cerco un attimo le pantofole ragazzi allora missione compiuta da questo cinese qui perché io almeno l'ho compiuta perché ho comprato una bellissima cosa ovvero ho comprato le pantofole e un popsocket quindi troppo bello e ora andiamo dal nostro cinese preferito bye bye ragazzi allora siamo arrivati dal nostro cinese preferito ora entriamo anche ed è troppo bello cioè io non riesco a capire già a ottobre dopo halloween subito hanno messo tutti gli adobbi natalizi fighissimo oddio ora entriamo e vediamo vado vieni che ci saluta allora oddio stiamo andando a vedere se è arrivata la colla altrimenti faccio la caccia dal cinese qui qui la colla eh io vedo solo piccole colle il cinese vuole la cazziata vero guardate cioè sono tutte piccole perché perché non c'è perché si andiamo a vedere la pasta molto morbida la pasta molto morbida andiamo a vedere ma buona perché non richiediamo la colla ora andiamo a vedere guardate 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 stupendo bellissimo ok ci vediamo dopo ok ragazzi stiamo andando via da questo cinese il nostro procedito e anche qui abbiamo comprato un popsocket molto bello poi faremo proprio ve li faremo vedere tutti quanti ciao e poi 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 abbiamo abbiamo comprato la tempera gialla che mi serve a me per Artem quindi vivo la vita e l'ospedale l'ospedale brutto l'ospedale no vabbè ora tra ora facciamo un altro sviluppo da qualche altro cinese allora ragazzi quindi siamo andati tutto ok ora niente colla secondo me non la compro su amazon ma non è sicuro se ma penso che non la troverò mai nella vita e ora andiamo da qualche altro cinese perché ci divertono dalle vecchinasi e tutto e giulia che mandano patatine vedete dove arriva boh boh non lo so ora adesso andiamo un altro cinese e poi andiamo anche al centro commerciale yes ci vediamo la piadina eh o non vi sai per la piadina si che ci serve troppo bello guardate ragazzi ora stiamo andando dal cinese dove io ho visto un popsocket troppo bello con i baffi e me lo devo prendere assolutamente perché è stupendo è la cosa più bella del mondo sì stiamo facendo shopping di proprio i popsocket perché sono troppo belli cioè sono la vita dei popsocket farete un video certo sì assolutamente cioè poi ho notato che da questi cinesini qua eh tengono i popsocket no? li tengono tipo è bianca la parte sotto è bianca non è nera e io ce l'ho nera quindi cambierò quella parte e metterò l'altra quindi è una cosa molto figa quella che farò e nient'altro cioè ora stiamo andando via basta questo ci vediamo dopo ciao bye bye ragazzi ragazzi stiamo quasi arrivati dal cinese nostro cioè nostro io ho visto il popsocket con i baffi quindi sono troppo contenta ora ci arriviamo papà se non mi sbaglio è questo proprio no no è questo è questo poi non è in cinese no è questo è quello è quello è quello è quello è quello no eh sì no non è questo se non mi sbaglio siamo vicini qua vicini ovunque wow sì se non mi sbaglio è proprio qua sì sì papà 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 entriamo leviamo la cintura di sicurezza o di sicurezza e andiamo a vedere sto popsocket aiuto vediamo se c'è speriamo aiuto ok vediamo un attimo se è tuo dove è questo? qua ciao ciao ecco lì qua se c'è più vediamo questo dicevi no questo è oppure ce n'era un altro gira guarda questo questo è un posto ve lo vedo la ve lo vado a messa? questa giù questo prendo guardate quanto è bello questo è bello 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 andiamo facciamo un giro babbo ok siamo le dobbiamo comprare le rocciolire non c'è nessuna ore 14 e 19 ok non avete pane? io sì io sono qui e abbiamo fatto i forzi ehi caro oh no no la devo far vedere aspettate guardate chi è? non si vede no troppo non si vede chi è? sta pazzo si adesso andiamo vicino alla scuola e andiamo a prendere le roccioline buone buone si sono buone prendiamo pure i pistacchi buonissimi pistacchi abbiamo preso le mozzarella e poi basta abbiamo fatto tutta la spesa e quindi ci vediamo tra poco ciao ciao ragazzi spero che questa mini domenica con noi vi sia piaciuta perché si comunque si e le noccioline non le abbiamo trovato il signore delle noccioline non le abbiamo trovato vabbè comunque è normale perché sono le due quindi si che vogliamo dalla vita vogliamo troppo e vabbè quindi ragazzi che a dire tutte le commissioni le dovevamo fare e le abbiamo fatte e le abbiamo finite e abbiamo sistemato tutto e vabbè quella vera lasciate un like se vi è piaciuto like se non vi è piaciuto se non vi è piaciuto non lo dite a nessuno se non vi è piaciuto eh non lo dite a nessuno Giulia dove sei Giulia? vieni 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 salutiamo dai salutiamo quindi ragazzi questo era il video spero vi è piaciuto blog a noi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii tirate in un basso official su facebook marghe giulia kawaii real sul secondo canale magic tv su musicali piaccia la marghe giulia real e nient'altro se volete le maglie, le cover o le tazze andate su www.marghe giulia kawaii un bacione a tutti un bacione a mamma che sta a casa mamma prepara stiamo arrivando abbiamo fame ciao 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 ciao